Ciao piccio, sono l'Oridis e siamo su... Però c'è nessuno? Nonna? Sei tu? Nonna, non mi fa risposta... Chiudi! Chiudi! Luce! Chiudi! Luce! Chiudi! Chiudi! Luce! Ok, cosa ho sentito? Sono... E respiro? No, non c'è niente. Ok. Quanto dura la notte? Sono alle 3 di mattina, quindi penso fino alle 7. Ma sto bambino perché non dorme? Affan... Perché deve stare qua a fa... Perché non vai a dormire? Non cazzo guardi le porte? E... AAAAAH! Non è... Cristo... Io non ce la posso fare, nel senso di scherzare... Non me lo aspetta... Oh mio... Sto sudando, sono bagnato di quanto ho sudato con sto cazzo di urlo. Avrò svegliato sicuro mezzo avvicinato, mezzo ora vengono a bussarmi. Io non ce la fai, io ce la posso fare, io bisogno... Io voglio giocare lo kit, ti voglio un po' di gattini. Andiamo a fare barbira per onzolo, per favore. Perché sto gioco di... C'è il respiro, io ora sono cagato sotto. Dice che se sento respirare devo chiudere la porta. Ma non l'ho sentito poco fa il respiro. Io sto giocando chiudendo gli occhi in due minuti. No, ti devo battere, gioco di... Almeno una notte ce la dobbiamo... Almeno una notte dobbiamo farci. Non c'è il respiro, sto scendo di cerchio, non c'è il respiro. Ok, torniamo indietro. Sono le tre, poco fa le tre è venuto uno stronzo. Chiudiamo la porta, chiudi, chiudi. Chiudi tutto, chiudi, affan, chiudi la porta, tienila chiusa. Che cos'era quel coso? Perché sono andata la luce per un po'? Devo guardare prima, che devo fare? Non conosco sto gioco, come funziona. Per quando è che dovrei spunt... Affan... No! Sto scaricando la torcia, che vuol dire? Io non ce la posso fare, no, una torcia di merda, dai. Tre ore mancano. C'è, c'è il respiro, c'è il respiro, chiudi la porta. Chiudila, chiudi, chiudi, chiudi tutto, chiudi. Via, andiamo indietro, via. Tieni, la chiudi, tieni, sta cazzo. Perché non chiudi le porte? Perché non le chiudi? Basta, io chiudo, ora ogni volta vado a qualche parte e chiudo. Vaffanculo, non mi interessa. Oh mio Dio, ma io chiudo io. Meno male che non ce la fai, scambi. No! AAAAAAAH! Cazzo! È giusto! Non è giusto! Poi perché? Perché si scarica la torcia? Che senso ha? Non posso spegnerla. Quindi si scarica con lo spunta che vuol... Vabbè, dove è spuntato tutto, l'ho controllato. Io sto giocando senza guardare lo schermo, io ho paura, io non sto guardando il cazzo di schermo, guarda la tastiera. Cioè, guarda sto bambino che... Aspetta. No, non c'è il respiro. Guarda sto bambino che ha i tic nervosi, non può dormire il caratino e basta. Va a dormire, Antulo. Se dormi non succede niente, si sa. Se dormi non succede niente. Tra, sono le tre di mattina, già sono stressato, le tre di mattina. Figuro di quando mi sveglio, poi. Chiudi, chiudi pure questa. Chiudi, sento cose. Sento cose. Via. No, cazzo, vaffanculo, sto gioco, basta, l'ha rotto il coglioni, vaffanculo.